Ciao a tutti! Oggi in abito formale? Ebbene sì, perché oggi vi voglio consigliare un libro che io reputo un'estrema sorpresa, un libro che veramente mi è piaciuto molto e che, dato il fatto che si tratti di una prosa elegantissima, quella presentata qui dentro, ho pensato di mettermi un filino a tono, diciamo. Il romanzo in questione mi è piaciuto molto, è un consiglio di lettura uscito recentissimamente in questi giorni all'incirca e che ho potuto leggere grazie alla Delphi che me l'ha inviato. È un romanzo di cui conoscevo poco, ma mi sono lasciato intrigare da ciò che c'era scritto nel retro copertina e gettandomi a capofitto nella lettura ho scoperto una scrittrice veramente di altissimo livello. Il romanzo in questione è Maria Spetta Marie di Madeleine Burduks. Madeleine Burduks è un'autrice belga, diventata celebre per un altro romanzo che non ho letto, ma che mi accaparerò presto perché è stata una grande sorpresa, La donna di Gilles. Questo romanzo, Maria Spetta Marie, l'ho adorato per il fatto che è una bellissima indagine psicologica femminile, c'è tanto empowering qua dentro dal punto di vista femminile, ma anche una bellissima riflessione in linea generale dei rapporti umani e soprattutto dell'amore. È un romanzo questo che vive di tantissimo amore, dell'intensità dell'amore. È un romanzo che lascia col fiato sospeso e che fa venire dei brividi altissimi. La prosa di Madeleine Burduks è elegantissima. È di un'eleganza sopraffina. Ci immerge immediatamente in una Parigi, quella degli anni 20, anni 30, circolata da caffè, da questi caffè, da eleganti, il fumo di sigarette. Si entra proprio in questa atmosfera qua e noi seguiamo, ci piombiamo a capofitto nella psicologia della protagonista. Una protagonista eccezionale, tratteggiata con grande dovizia. È un romanzo molto avanti per i tempi, tant'è che si può considerare un vero e proprio fuma classico. È uscito negli anni 40 e presenta appunto Marie. Marie e basta. Lei, in un momento bellissimo del romanzo, lei si priva del cognome, perché una delle tematiche fondamentali di questo romanzo è il fatto che molto spesso i nostri rapporti, in questo caso si parla soprattutto del rapporto coniugale, i nostri rapporti vadano molto spesso al di là del sentimento e siano delle vere e proprie dipendenze. Il romanzo ragiona molto su questo e lo fa veramente, veramente bene. Marie è appunto una donna, una donna innamorata persa comunque di suo marito Jean. Un uomo semplice, un uomo bonaccione, che ama fare un po' baldori, ama fare un po' festa. È un borghesuccio, diciamo, molto tenero, un po' impacciato. Me lo sono visto così, il povero Jean. Marie invece è una ragazza sulla Trentina, una ragazza ancora molto attraente, tant'è che riceve diverse mire da provoloni, ma che è soddisfatta della sua vita. È il contrario, ad esempio, di un Emma Bovary, Emma Bovary che viveva l'ansia di questa prigionia chiamata matrimonio. Marie non è per niente così, Marie vive la felicità del matrimonio, eppure, proprio in una giornata particolare, riceve un'epifania, un'epifania che la sconvolge totalmente, il desiderio. È un'indagine del desiderio quella che viene fatta qui. Avete presente il desiderio che provate, anche se siete innamoratissimi, perché siamo umani, capita a tutti, quando andate sull'autobus e vedete di lontano sfuggita qualcuno di attraente? Ecco, il tipo di desiderio così, travolgente, all'inizio sembra proprio quello. Siamo in una giornata di vacanza in Costa Azzurra, i due sposini sono andati al mare, e Marie, mentre prende il sole, rimane a fissare il corpo molto attraente di questo ragazzo sulla ventina. È un ragazzo che comunque, data la giovinezza, ha un bel corpo, lei rimane subito estasiata, e c'è questa immagine bellissima in realtà, più a livello di stile, di prosa che di contenuto, in cui lei fa il confronto col corpo di Jeanne, no? Eh, perché Jeanne è dall'altra parte della riva, in sostanza. Ma perché lei si interessa a questo corpo del ragazzo? Oltre al desiderio c'è anche tutta un'indagine interiore che Marie fa davanti a questa epifania, davanti a questo shock del desiderare qualcun altro. Il fatto che lei desideri una giovinezza che non ha mai pienamente vissuto. Il racconto di Donna qua dentro, del personaggio, falsamente libero, è invece così dipendente dagli affetti e soprattutto dagli oggetti. Come dice anche la postfazione, è un romanzo femminista in un certo punto di vista, perché la donna qui rappresentata, che si ribella, si emancipa, vive una totale dipendenza dalle cose attorno a sé, perché sente, derivato anche dal costrutto familiare, che comunque è benevolo, è amorevole. Ma lei sta stretto, dal costrutto familiare, dalla società, sente che la sua realizzazione non può avvenire in alcun modo se non attraverso la figura di moglie e padrona della casa, in sostanza. C'è proprio un momento in cui lei si specchia nell'acciaio che ha appena pulito, no? E si crea questo specchio, questo guardarsi dentro. Ma il romanzo presenta una carambola di personaggi insoddisfatti della propria persona. Lo stesso Jeanne, in verità, per quanto viva in modo superficiale, vive la necessità di voler vivere di più. Si sta annoiando, si sta annoiando molto per non parlare della sorella di Marie, Claude, che invece sta attraversando un momento di profonda tristezza e che apprezza invece e invidia Marie per la sua capacità di andarsene, di sperimentare con la vita, di ribellarsi alla vecchiaia, di introdursi di nuovo in una giovinezza che non le appartiene più. Ma qual è la cosa bella di questo romanzo? La cosa bella di questo romanzo è che non c'è crisi di coppia. Marie è innamorata persa di Jeanne, nonostante lo tradisca con il ragazzo della spiaggia e anche più avanti. Questi tradimenti non hanno la verve della Emma Bovary, hanno una verve del tipo scuotere le acque. La nostra relazione va bene, potrebbe andare meglio, scuotiamola, no? In quel senso. C'è una dinamica di questo tipo a livello psicologico. Poi, pian piano, ci si rende conto che Marie sta cercando se stessa. Quindi Marie si aspetta da sola. Marie aspetta Marie. In questo conflitto psicologico con se stessa, fatto di ricordi, di ambizioni, di attese, dell'essere se stessa in tutto e per tutto, nel passato, nel presente, nel futuro. Per amare una persona, ed è qua il fulcro del romanzo, uno dei fulcri del romanzo, è necessario conoscere se stessi. Altrimenti va a finire che non conosci più l'altra persona. Un altro momento molto bello del romanzo è quando i due coniugi sono a letto e lei dice al marito lavati, perché non riesce a sopportare l'odore del marito, perché le ricorda troppo lui. Lui va a lavarsi, si fa la doccia e poi lei non sopporta più l'odore dello sapone perché dice Jeanne non ha più l'odore di Jeanne. E quindi viviamo continuamente in questo continuo vivere di contraddizioni, dell'essere legati a qualcuno senza esserlo, di smuovere le acque e lei si chiama Marie e basta perché Marie è Marie. Marie, lei è sola, finalmente sola, innamorata, ma consapevole del fatto che l'amore è tale anche quando si spezza, nel senso, per amore a volte è necessario chiudere o ribaltare una storia. non è solo felicità all'amore, è una serie di contrasti, contrasti interiori, contrasti con l'altro e l'ho trovato molto bello. È un volumetto, ha le dimensioni di un volumetto, ma contiene un mondo. Come stile di scrittura, e tra l'altro la postfazione ci dice che la stessa Burdux era amica, frequentava questo tipo di persone, come scrittura ricorda tantissimo, sia per stile che per tematiche, Simone de Beauvoir, tant'è che la stessa Simone de Beauvoir cita più volte Madeleine Burdux nel suo saggio famosissimo Il Secondo Sesso. C'è proprio tantissimi, ci sono tantissimi riferimenti a questo romanzo, questo romanzo che io l'ho trovato spettacolare, soprattutto la parte finale in cui Marie si perde nelle stazioni, è in attesa di qualcosa, e vede le persone che hanno la vita in loro e lei si chiede quanto c'è di vero in ciò che vedo, quanto mi manca da scoprire all'interno delle loro vite. Questi passanti che vedo hanno una meta precisa o stanno vagando come me? È molto bello. Io ve lo straconsiglio, mi ha veramente sconvolto. Ci voleva un romanzo così. Fatemi sapere se vi interessa, non vi interessa. L'avete letto? Non l'avete letto? Io ve lo straconsiglio. Fatemi sapere anche se avete letto La Donna di Gilles, che comunque voglio leggere, a prescindere. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao, ciao.